Tutto in una notte. La moda, mostre di pittura e fotografia, musica e teatro. E la notte bianca della città di Andria. L'appuntamento è fissato per il 5 gennaio, data in cui era prevista l'inaugurazione della stagione dei saldi, poi anticipati al 3 gennaio. Il fine non cambia. Favorire quella zona commerciale della città di Andria, che soffre la crisi nonostante sia diventata punto di riferimento anche per gli aspiranti shoppers delle città vicine. E allora, da un'idea dell'associazione La Notte Bianca, finanziata dal GAL e le città di Castel del Monte, patrocinata dal comune di Andria, dalla provincia BAT, sono in tanti ad aver aderito dando il proprio contributo. La pubblicità dell'evento, ad esempio, realizzata dall'eggenzia Artefatti, sarà veicolata gratuitamente sui cartelloni dell'azienda Mediasistemi. È una sperimentazione che è stata già fatta l'anno scorso e che viene riproposta quest'anno con l'obiettivo di far vivere la città nella sua interezza, ma soprattutto far vivere quella che è la parte produttiva, la parte dove c'è una maggior frequentazione di persone della nostra comunità. Integrare, socializzare la nostra comunità in un percorso che è una novità, perché la frequentazione notturna prolungata senz'altro rappresenta una novità, però una novità che si inserisce in un contesto di riqualificazione, di frequentazione anche di tanti ambienti e spazi urbani che vedono la nostra città come punto di riferimento, non solo dei nostri concittadini, ma anche di tanti altri che provengono da altre realtà. Gli spazi che saranno interdetti al traffico per questa importante iniziativa saranno, oltre a quelli delle zone già pedonalizzate, anche via Duca di Genova, il tratto non pedonalizzato di Corso Cavour, parte di via Firenze. L'occasione sarà accolta anche per trasmettere importanti messaggi di educazione civica. Per i più piccoli sono stati previsti dei laboratori didattici, per i più grandi la possibilità di provare, grazie al contributo della Polizia Municipale di Andria, l'alcol test e gli effetti dello stato di ebrezza sulla guida. Non mancheranno le occasioni per esaltare i prodotti tipici della città, l'olio extravergine di oliva su tutti.